Sandra Blazquez è nata a Madrid, 23 gennaio del 1987 è un'attrice spagnola, conosciuta per i suoi ruoli in De Luna en cambio de clase, Alma en fisica o quimica, Luzentiera de Lobos Y Maria Oseen vive cantando, popolare serie di Antena 3. Nonostante la sua giovinezza, ha già maturato una notevole esperienza come attrice da quando è stata un'altra esecutrice nel 1997 di El Salir de Clase. Nello stesso anno è stata presentatrice del programma Megatrix Club, dove ha lavorato per due anni. E nel 2001 Ettari ha avuto diversi ruoli episodici nella serie Ana Y Los 7 Y Javieriano vive solo. Nel 2003 ritroviamo Sandra Blazquez nella Vida di Rita, che le ha permesso di ricostruire un carattere secondario e del grande piacere di lavorare con Veronica Forcue e Pepo Nenieto fra gli altri. Ma senza ombra di dubbio, è il 2009 il suo anno trionfale, anno in cui trionfa come un'attrice a far parte del cast di fisica oquimica nel ruolo della misteriosa Alma, una ragazza con molti lati nascosti, personaggio che ha portato avanti fino al 2011. Dopo la fine della F.O.Q., ritorna al telefilm cointerpretando con Rocco Di Urcal, Volvera Verde, presso l'emittente Telecinco, un film biografico sulla cantante Rocco Di Urcal. Per quanto riguarda la sua esperienza cinematografica, ha partecipato a Primer Ypsilon Uitimo Amor Ypsilon Matara Langel nel 2002 e 2004. Tra il 2011 e il 2014 et ha rilavorato in Tierra de Lobos dove è entrato a metà della seconda stagione, partecipazione che le è valsa il premio di Sebastian, Joel Bosqued. Nell'aprile del 2013, l'attrice ha lavorato nella serie di Antena 3 vive cantando insieme al suo compagno di Landof Wolfs Maria Castro. Ha collaborato anche in un capitolo di El Don de Alba nello stesso anno, nelle vesti di Sofia. Attualmente svolge il ruolo di Huertas Lope, ex sindacalista che lavora come domestica nella serie TV e meno un'una vida. Ha un'organizzazione di aiuto per i bambini poveri del Sud America con un amico. Scheda biografica Sandra Blasquez. Foto attrice spagnola Sandra Blasquez. Nata a Madrid. Nata il 23 gennaio 17. Residente a Madrid. Altezza 1,73 metri. Capelli castano chiaro. Occhi celesti. Segno zodiacale pesci. Professione attrice. Hobby collabora con varie associazioni in aiuto dei bambini meno fortunati del terzo mondo. Pagina Instagram. Foto di Sandra Blasquez.